Una giornata triste oggi per gli imprenditori toscani e le piccole e medie imprese che si sono visti negare l'accesso diretto al fondo centrale di garanzia che permette di avere dei finanziamenti evitando l'intermediario toscano. Un fatto gravissimo, ancora una volta la maggioranza ha negato quello che è un diritto sacrosanto alla sopravvivenza delle piccole e medie imprese, sono stati negati i principi base, quelli di ottenere degli investimenti, delle sovvenzioni, tra l'altro sovvenzionate appunto dai nostri parlamentari e parte anche di quelle che saranno le nostre cifre che rendiconteremo. Il microcredito del Movimento 5 Stelle ha già fatto partire più di mille imprese e la regione toscana ha messo lo stop.